In arrivo a Ili, preparati alla battaglia. Seleziona il tuo eroe. Dall'interfezione, costruiremo un nuovo mondo. Mi proteggo io, amici! Ah, che spreco della mia tecnologia! Il dolore è inevitabile. 5, 4, 3, 2, 1, primo round. Conquistare l'obiettivo. Se va fatto, che se è fatto in fretta. E terrò al sicuro! Allineo le torrette. Via e aeree! Quattro, 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 quattro! Qui? Io lo so, il trois. Il c也是. Quattro, 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 quattro? Quattro, 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 quattro! Quattro, quattro, quattro... Quattro, quattro, quattro. Quattro, 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 quattro. Quattro! Quattro, quattro! adding some power to the投身. Quattro, quattro! Ve l'avится! Ashton riprisosando. Some power to the power to the pot. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti